Come sapete, cari amici, in tv ne succedono di tutti i colori e noi siamo qui pronti per raccontare tutto quel che succede, tipo questi attimi di forte imbarazzo, che sono successi ieri sera durante la primissima puntata di Michelle Impossible, cioè il programma condotto proprio da lei stessa, cioè la bravissima Michelle Hunziker. Quindi al suo fianco la sua divertente comica Katia Follesa che con le sue battutine, perché o mai la conosciamo, sappiamo che fa super ridere tutti quanti e così è stato e ha fatto ridere anche la padrona di casa, certo, ovvio. Comunque chiaramente la Follesa ha fatto molto leva sulla sua vita privata della conduttrice e chiaramente di conseguenza Michelle è stata molto al gioco. C'è stato un momento tuttavia che la Follesa ha fatto una serie di battutine che di certo non sono passate inosservate e il pubblico chiaramente ci ha fatto caso. Poi sul mondo web è scattata l'ironia che è andata per la maggiore, ma capiamo un attimino di cosa si è parlato. Durante i suoi sketch Katia ha fatto dell'ironia sulla vita sentimentale dell'amica e collega. Non solo, la Follesa stava facendo menzione dei molti esercizi fisici che fa Michelle per tenersi in forma a un copro da favola tra l'altro. Ed è proprio a questo punto che va in onda questo scambio di battute che non si capisce se fosse stato preparato o meno. Katia dice, ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nuda di mio marito scherza la Follesa. Anche tu, quest'estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo. A questo punto Michelle Hunziker sembra divertita ma preferisce andare da un'altra parte. E dice, ok, me ne vado. Poco dopo il siparietto si chiude con una risata e si va avanti. C'è da dire che chiaramente sui social le cose si sono fatte piccanti e più di qualcuno ha chiesto che fine avesse fatto Giovanni Angiolini, perché parliamoci chiaro, il dottore di cui si parla è proprio lui. Come qualcuno ricorderà, il medico e Michelle si sono frequentati per alcuni mesi. Poco dopo l'uomo è stato pizzicato a baciarsi con una modella tedesca e le cose tra loro sono terminate così. Proprio riguardo il dottore, Tommaso Trussardi aveva detto, so che Michelle lo ha fatto, uscire con altre persone, forse per bisogno di conforto e supporto in un momento molto difficile del nostro matrimonio. In merito a Giovanni dichiarò, un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona per bene. Serafico.